Il federalismo può essere proprio una risposta alle difficoltà che c'è il mezzogiorno, primo. Seconda cosa, siamo assolutamente preoccupati e di questo però dobbiamo anche trovare dei responsabili per capire dove bisogna andare a intervenire. E lo dico con chiarezza, non abbiamo amministrato noi in questo periodo, non abbiamo amministrato noi in regioni come la Sicilia, che hanno utilizzato risorse pubbliche non per dare risposta a questi drammi che vivono anche i cittadini siciliani, ma per garantirsi voti alle elezioni successive. Noi su questo vogliamo intervenire e dare un forte cambiamento. Se permette, mi scusi, però io non posso accettare, dopo capisco il fideismo renziano che faccia dire di tutto e di più. Però quando ci sono 4 milioni di poveri, siamo al massimo storico di disoccupazione, il massimo storico di disoccupazione giovanile, e dire che bello le cose stanno migliorando, ecco, io avrei un minimo di ritegno e direi forse, in modo costruttivo, vediamo dove bisogna intervenire, cambiare le politiche che sta facendo questo governo per dare una risposta a queste situazioni drammatiche che non devono essere soltanto una questione politica oppure di posizioni politiche l'une diverse dagli altri. Ma io su questo siamo assolutamente disponibili a trovare una via condivisa, perché mettiamo da parte le bandiere e diamo risposta a questi drammi. Però non si può dire che tutto va bene, che tutto migliora.